Sono Salvatore Culletta della Caritas di Messina e della cooperativa sociale Santa Maria della Strada. Dall'inizio ho seguito l'esperienza della creazione di questo nuovo centro a Messina, è stato un lungo percorso ma alla fine ce l'abbiamo fatta. È stata un'esperienza entusiasmante anche perché ho potuto riscoprire anche spazi della ferrovia, delle stazioni che non conoscevo e anche le altre persone del territorio penso che non conoscano spazi come questo e questa è la dimostrazione, quella di stamattina.